Amici di Pianeto Notte, mi trovo con il boss del mercoledì, un componente del famosissimo Metropolitan Group che organizza appunto queste serate megagalattiche, diciamo così, al Grand Village Covo dei Pirati di Agropoli. Qui con me ho mister... Peppone! Ciao Peppone, sei sempre simpaticissimo. Come sempre, grazie. Allora, parlaci di questi mercoledì che organizzate al Grand Village Covo dei Pirati di Agropoli. Allora abbiamo iniziato mercoledì scorso, continueremo fino alla fine di agosto. Abbiamo in servo per i nostri ospiti delle grandi serate per il mese di agosto appunto, con feste a tema per allietare le serate agropolesi. Bene, quindi un altro messaggio a tutto il popolo della notte da Mr. Peppone del Metropolitan Group. Allora io vi aspetto numerosi, come sempre, per fortuna, grazie. e il mercoledì da mercoledì ad adesso fino alla fine di agosto. Venite!